Il pastore protestante, teologo e scrittore Timothy J. Keller in un suo libro dice se Gesù è risorto dai morti tu devi quindi accettare tutto quello che ha detto. Se non è risorto dai morti perché preoccuparsi di quello che ha detto? La questione a cui tutto è legato non è se ti piace o meno il suo insegnamento ma se è risorto o no dai morti. Questa citazione mi sembra molto importante perché anche a me sembra che questa sia la questione fondamentale una questione che supera di molto tutto il gossip ecclesiale in cui siamo spesso sommersi una questione che è la sola che veramente ci deve preoccupare e che è al di sopra di tutto quello che possiamo dire su questo o quel prelato su questo o quel cardinale, sul papa presente o sui papi passati la questione è se Gesù è veramente risorto dai morti o non è risorto dai morti questo credo sia il nocciolo di tutta quanta la questione sia alla fin fine quello che ci deve veramente preoccupare che deve veramente impegnare il nostro tempo e la nostra ricerca capire quanto di vero c'è in quello che Gesù ci ha promesso e già tutto ha veramente un senso se Gesù è veramente quello che ha detto di essere se non lo è tutta la teologia divenne praticamente un genere letterario come il fantasy ecco perché c'è un'urgenza per una buona e sana apologetica piuttosto che per il gossip ecclesiale per carità noi viviamo nella Chiesa ed è ovvio che siamo preoccupati anche per i tradimenti le infedeltà, le deviazioni ma esse acquistano senso e significato se la Chiesa vive veramente nella verità del Cristo che è veramente chi ha detto di essere se lui non è risorto dai morti, se non è il figlio di Dio, se non è via verità e vita perché preoccuparsi di tutto il resto? dovremo sempre tornare alla questione essenziale che è quella veramente importante sei tu quello che deve venire o dobbiamo attendere un altro? da questa risposta in definitiva dipende veramente tutto dipende veramente tutta la nostra vita c'è un famoso libro di Vittorio Messori che si chiama Ipotesi su Gesù che è recentemente stato ristampato in cui lui pone proprio questa questione andiamo a sondare le fondamenta più che preoccuparsi se è simpatico quello che hanno fatto Vescovo in quella diocesi se quella frase detta da un cardinale è più o meno felice sono per carità cose anche importanti ma non sono le cose essenziali se veramente la pretesa cristiana non è fondata sulla verità quindi bisogna preoccuparsi prima di tutto della questione essenziale è risorto dai morti o non è risorto dai morti ecco perché l'apologetica è oggi più che mai in un tempo di grande indifferenza veramente 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 importante